Sono Alberto Mascena, mi occupo di psicologia sociale, ho conseguito una testa di laurea magistrale occupandomi di una ricerca sui flussi migratori senegalesi, quindi ho proprio trascorso due mesi in Senegal in cui ho portato avanti una ricerca etnografica e questo è stato diciamo un ambito di studi, di lavoro che mi ha appassionato molto. Hello and welcome to Obeheed Podcast, I'm your host Obeheed E1-4 and I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. Al che ho desiderato continuare anche dopo la testa magistrale e ho portato avanti appunto questo interesse anche in Togo, paese nel quale ho trascorso altri cinque mesi sempre per una ricerca etnografica, questa volta dedicata sia ai flussi migratori, ma degli studenti togolesi che desiderano studiare e vivere in Italia per conseguire un titolo di studio. Ero molto interessato a come nasce e si sviluppa il desiderio di migrare, quali sono le caratteristiche, quali sono gli aspetti in gioco rispetto alla nascita di questo desiderio, la voglia di ritornare e poi in generale altri temi che magari potremmo anche affrontare. Successivamente ho conseguito un dottorato di ricerca sulle coppie e le famiglie miste, anche questo un tema, un fenomeno che mi appassiona molto e grazie al quale, spinto direi dal quale, ho creato un'associazione che si chiama AIFCOM, Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste, che si occupa di studiare e sostenere tutte le coppie e le famiglie interculturali, interreligiosi, interetniche in Italia. In tale ambito continuiamo a lavorare e a fare ricerca. Fondamentalmente questo. Poi un altro aspetto sicuramente è quello che riguarda l'etnopsichiatria, un ambito disciplinare in cui mi sono formato sia con dei corsi, con dei master e che attualmente pratico sia a livello di libera professione, ma anche in ambito sociale. L'ultima costola di tutto questo apparato è rappresentato dal mio impegno in Palestina. Da due anni sono referente nazionale per il progetto di salute mentale dell'ONG PCRF, per cui mi occupo di formazione e intervento in Palestina, nello specifico a Gaza, in cui coinvolgo gli psicologi locali e incontriamo ovviamente anche bambini e famiglie. Questo in estrema sintesi è quello che faccio. Quindi Abetto, ci racconta un po' il background generale di questo progetto che siete seguendo, cioè l'associazione AFCOM. Sì, l'associazione appunto nasce perché spinto dal mio progetto di dottorato mi ero reso conto che erano tante le coppie e le famiglie miste in Italia che non soltanto non erano state in qualche modo seguite, osservate, nonostante ci siano già delle ricerche, sicuramente non è AFCOM ad aver dato vita alle ricerche in tale ambito. Però mancava secondo noi un'organizzazione di riferimento che si occupasse da un lato del sostegno psicosociale, quindi l'organizzazione di gruppi, l'organizzazione anche di servizi di counseling psicologico e legale. Questo perché nei fatti queste coppie e famiglie miste, come ci eravamo resi conto, sono portatrici di necessità specifiche, non essendo né coppie e famiglie migranti, ma neanche coppie e famiglie totalmente italiane, per cui sono veramente un universo a sé. Insieme a questa esigenza abbiamo pensato che sarebbe stato interessante, oltre che dare tutta una serie di servizi, anche promuovere una rinnovata sensibilità sociale, ponendo le coppie e le famiglie miste come il barometro fondamentale attraverso cui misurare il grado di inclusione sociale tra migranti e italiani. Cioè, ci eravamo resi conto dell'importanza, della potenza implicita che queste coppie e famiglie miste portano con sé. Il fatto che, in qualche modo, la coesistenza delle differenze, lungi dall'essere solo un'ideologia, può essere anche un esempio pratico, un modello di vita, addirittura un modello di famiglia. E quindi era interessante, ed è interessante per noi, sensibilizzare l'opinione pubblica in merito. Al contempo sono anche un laboratorio entro cui sperimentare nuove pratiche di coesistenza delle differenze, differenze interculturali, interreligiose. Per cui, quando spesso si parla di scontro o incontro tra cultura e tra civiltà, che dal mio punto di vista se ne parla spesso in modo areoso, con troppi pochi contorni definiti, nei fatti di coppie e famiglie miste ci restituiscono una pratica concreta di coesistenza delle differenze. Questo è un po' quello che ci ha spinto a far affondare questa associazione con cui attualmente portiamo avanti tutta una serie di progetti. Progetti, come già accennavo, di natura psicosociale, quindi anche nelle scuole e nelle varie realtà. Un gruppo di mutuo aiuto mensile, che ora a seguito dell'emergenza sanitaria è diventato un gruppo virtuale. Delle ricerche, abbiamo diverse partnership anche ad esempio con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed eventi, eventi seminariali, eventi all'università e altro. Questo è un po' il lavoro di IFECOM. Grazie per quell'informazione, è molto utile. Sei anche un docente all'università. Vorrei capire adesso, quando tu porti questi tuoi studi ai studenti, ai tuoi studenti, cosa dicono? Volevo capire qual è la loro reazione sui studi che stai facendo, sia sull'immigrazione che sulle coppie miste. Ovviamente secondo me, come una persona, è un arricchimento, però non lo so, per i tuoi studenti, per le altre persone, cosa dicono loro su quelli che stai facendo? Ah ok, certo. Mi ero dimenticato di dire che ho anche una docenza, sono docente a contratto all'Università di Milano Bicocca, in cui insegno psicologia sociale. E nel mio corso sicuramente l'aspetto legato all'intercultura rappresenta sicuramente un passaggio essenziale. Un passaggio essenziale perché, ripeto sempre questa affermazione, cioè che ormai l'antropologia è tornata a casa da tanti anni, ovvero non possiamo più mettere veramente la testa sotto la sabbia e non riconoscere come la presenza di persone, non necessariamente italiane da tre generazioni ad esempio, ma seconda generazione di migranti, persone immigrate da pochi anni, molti anni, coppie e famiglie miste, ma anche altre configurazioni. Prendiamo ad esempio gli italiani che si sono convertiti ad altre religioni, come l'Islam. Questo quindi c'è, non possiamo più chiudere gli occhi e pensare che le competenze interculturali siano accessorie, siano un corollario poi non così importante nel lavoro e nel vivere quotidiano, non soltanto nel lavoro di chi si occupa dell'umano, dell'umanità. Nello specifico io insegno ai futuri assistenti sociali, ma credo veramente interessi tutti. Quindi il tema delle coppie e delle famiglie mi si presta molto bene per aprire un po' lo sguardo. Loro sono molto interessati, molto appassionati all'argomento, perché è veramente un calderone di temi, di questioni. Pensiamo ad esempio all'interreligiosità, quindi come le coppie integrano, costruiscono un'impalcatura relazionale entro cui due religioni, come ad esempio il cristianesimo e l'Islam, non soltanto possono coesistere in pace, ma addirittura generare dei pattern creativi di interazione tra esseri umani, tra partner appunto. Quindi è un argomento interessante, anche perché diventa questo tema, questo fenomeno, un espediente per parlare anche di altro. Quando ad esempio si affronta il discorso multiculturalismo a mosaico, intercultura, ok via dicendo, è interessante vedere come le coppie miste adottano a livello micro sociale le stesse pratiche che a livello macro sociale, in termini politico-sociali, poi vengono implementate nelle varie nazioni, per cui ci sono le coppie che tengono separate le proprie culture, non si incontrano, ma rimangono comunque in pace, quindi non c'è un vero e proprio contatto. Ci sono invece quelle altre coppie che alcuni autori, soprattutto Sejadri e Martin, parlano di integrated, cioè quelle coppie che riescono effettivamente a utilizzare queste strategie in cui ciascun partner riesce a comprendere, a parlare il linguaggio semantico dell'altro, cioè riesce a interpretare, a essere partecipe, non soltanto cognitivamente, ma emotivamente, della cultura dell'altro. E quindi c'è anche questo aspetto. Poi ci sono vari fondamentalmente arrangiamenti. Ed è interessante quindi andare a capire quali sono le pratiche e mutuare dall'esperienza delle coppie miste queste pratiche, soprattutto le pratiche più funzionali, e cercare poi di applicarle mutatis, mutandis, con i dovuti accorgimenti, anche sull'arena sociale più ampia, quindi sul contesto sociale più ampio. Quindi infatti spesso mi piace definirle un micro laboratorio privilegiato. Se sono portatrici di esperienze dirette, sono testimoni privilegiati di come si possono costruire e mettere insieme delle differenze. Siamo nell'epoca in cui si parla spesso di differenza o di differenze e credo che le coppie miste possono dirci molto di più di qualsiasi teorizzazione o di qualsiasi legislazione, in qualche modo. Adesso, questa è una curiosità mia, perché hai scelto di lavorare su coppie miste. Ma perché proprio le coppie miste? Ci può essere una spiegazione, diciamo, un po' più personale o basata sulle ricerche che hai fatto il precedente? Prego, spiegami questa parte. Ma guarda, la risposta è prettamente... cioè, la nascita ha una natura squisitamente personale, perché avevo difficoltà a trovare delle coppie per la mia ricerca. E' proprio una difficoltà enorme. Quindi, spinto da questa necessità, ho iniziato a cercare appunto dei forum, dei gruppi o delle associazioni. Cioè, ero interessato a capire se ci fossero già delle realtà. Quando realizzai, scopri che non c'era nulla fondamentalmente, tranne qualche forum come qualche gruppo spontaneo, così un po' anche frammentato. E allora lì, insieme ad altre persone, abbiamo avuto l'idea di iniziare a coagulare tutta una serie di riflessioni attorno a questo tema, di essere un punto di riferimento per queste persone. Perché ci eravamo resi conto che poteva essere utile proporre studi, proporre, più studi chiedo scusa, ricerche, riflessioni, proporre interventi ed essere un punto di riferimento per queste coppie e per queste famiglie, per le nuove generazioni, i cosiddetti figli, le seconde generazioni miste, i figli delle coppie miste, che sono veramente il futuro di questa realtà. Quindi fondamentalmente è questo, la nascita del progetto. E poi per quanto riguarda gli obiettivi, quali sono stati gli obiettivi prefissati per il progetto? Sì, ovviamente i progetti quando iniziano possono iniziare con un obiettivo, poi mano a mano le cose vanno avanti e si possono cambiare. Però adesso, come adesso, qual è l'obiettivo di questo progetto? Ci sono degli obiettivi iniziali ma poi questi stessi possono chiarirsi o addirittura possono regredire sullo sfondo e fare spazio ad altri obiettivi, ad altre idee. Effettivamente quello che noi stiamo vedendo è che la società nel frattempo è cambiata, nonostante IFCOM abbia una vita relativamente breve, perché è nata nel 2015, sono già cinque anni che lavoriamo, attualmente l'obiettivo principale è quello di radicarci sul territorio italiano. In realtà quello è più un metodo. L'obiettivo, nei fatti, gli obiettivi sono rimasti più o meno gli stessi, davvero. aiutare concretamente queste persone, perché le veramente le intendiamo come una risorsa fondamentale, una risorsa perché sono testimoni, come dicevo poc'anzi, sono testimoni diretti, sono il risultato diretto dei nuovi assetti societari legati anche e non solo al fenomeno migratorio, sono legati anche agli effetti della globalizzazione, a tutta una serie di fattori. Quindi sono veramente una realtà da proteggere, perché ci restituiscono uno sguardo approfondito sulla società di oggi e sulla società che verrà. sono da proteggere e da sostenere, perché appunto portano avanti, che pongono domande nuove, le cui risposte spesso non sono semplici. Ritornando all'esempio, quale confessione religiosa seguire in merito all'educazione dei bambini? Come mettere insieme i due universi religiosi? Questa è solo una delle tante domande importanti e se ci pensiamo sono domande che le famiglie si pongono, ma che interessa tutta la società su larga scala. Come fare il tema dell'Islam in Europa? Pensiamo all'Islam in Francia. Quante problematiche, quante resistenze, quante difficoltà emergono nel cercare di rispondere a questa domanda? E allora nel nostro piccolo cerchiamo di dire le coppie, queste molecole della società, come rispondono a questo tema? Ecco, quindi ritornando agli obiettivi, approfondire, studiare, proteggere e sostenere queste realtà. Prima mi hai parlato del tuo viaggio in Africa. Questo è stato veramente interessante, nel senso non sei stato qui a cercare di immaginare cosa può essere la situazione di un africano o degli africani che vengono qui per lavorare, per cercare un futuro migliore e poi fare il tuo progetto su di loro. Tu sei messo proprio ad andare lì per capire un po' la situazione in maniera un po' più profonda e questo per me è molto interessante. Adesso voglio chiederti mi puoi condividere un po' cosa è stata la tua esperienza quando eri lì in Africa e poi soprattutto se hai capito perché le persone decidono di lasciare il proprio paese per cercare un modo migliore fuori dai loro confini. Questa cosa ci puoi chiarire un pochettino? Certamente, grazie per questa domanda. Allora, inizialmente c'era una curiosità abbastanza confusa nel senso che ero interessato a approfondire tale argomento ma non avevo né riferimenti teorici né una prassi di ricerca definite. Quello che però poi ho sviluppato come riferimento teorico principale tra i vari è il concetto di migrazione come fatto sociale totale proposto da Abdel Malek Sayad questo sociologo algerino che personalmente adoro e che rappresenta uno dei credo dei teorici più illuminanti per comprendere il fenomeno migratorio attuale e degli ultimi trent'anni direi anche se lui poi si è concentrato su soprattutto sull'emigrazione algerina in Francia ma le categorie concettuali e le metodologie di ricerca che lui ha sviluppato mi hanno veramente orientato e direzionato in modo estremamente utile per cui l'idea è sempre stata quella di comprendere il fenomeno migratorio non soltanto a partire dal paese di arrivo quindi il paese che accoglie ma a partire dal paese di partenza perché un immigrato è innanzitutto un emigrante è una persona che ha già una vita più o meno piena più o meno ricca più o meno soddisfacente ha già una sua umanità radicata in un territorio in una società in una comunità e comprende già questo restituisce innanzitutto un senso di grande umanità e di grande naturalezza del fenomeno migratorio perché quando sono gli italiani a partire dicono ok io sono qui adesso vado in Francia vado in Canada e sembra un movimento più naturale e invece volevo sfidare tra le varie concezioni anche quella che fa esistere fa esistere l'immigrato come persona da quando arriva in Italia prima non c'è chissà che fa chissà chi è e quindi la sua configurazione identitaria è schiacciata ridotta veramente all'identità dell'immigrato prima cosa quindi ero interessato a sfidare questa cosa qui seconda cosa scoprire poi quello che ho anche riportato in una serie di articoli che l'immigrazione è una strategia del vivere e non soltanto del sopravvivere certo adesso può sembrare anche scontato dire però ancora oggi pensare che si lasci il paese solamente perché si sta morendo di fame è oltremodo sbagliato è oltremodo veramente stereotipato come modo di vedere come approccio non tanto perché non ci siano queste problematiche è chiaro che sì ma non possiamo ridurre l'immigrazione alla miseria è assurdo e allora normalizzare il percorso migratorio nel senso di rendere una cosa veramente estremamente umana cosa che è sempre stata e sempre sarà era un altro obiettivo per cui in Senegal mi sono occupato di approfondire i progetti migratori sia di chi intendeva partire ma anche di chi tornava per le vacanze degli immigrati che già erano da 5 10 15 anni nei paesi di accoglienza per cui Spagna Italia Francia Germania Stati Uniti e farmi raccontare da loro la loro esperienza e quindi anche identificare le varie dimensioni la voglia di tornare la voglia di restare nel paese di accoglienza e quindi di ricongiungersi e di portare con sé la famiglia le insoddisfazioni gli episodi di razzismo pregiudizio e discriminazione vissuti nel paese di immigrazione come è cambiata l'idea prima di lasciare il paese e dopo quali sogni infranti quali obiettivi nuovi grazie mille Alberto questa tua riflessione è stata veramente bella mi sa che è la cosa che tante persone dovrebbero cercare di capire cioè questo aspetto umano perché non si può vedere gli immigrati sempre solo come numero cioè numero per bilanciare della statistica abbiamo non lo so 5 milioni di immigrati in Italia però questi 5 milioni di immigrati in Italia stiamo parlando delle persone degli uomini delle donne dei bambini che hanno del futuro che come tutte le altre persone nel mondo stanno sognando che vogliono realizzare dei loro progetti nella vita che hanno delle famiglie nel loro paese che sono un mondo che contribuiscono anche in questo paese a livello economico in tutte le ramificazioni quindi queste persone vengono considerate come persone come individue che hanno un futuro che hanno che hanno dei progetti diversi nella loro vita che non sono diversi anche degli italiani o di altri cittadini del mondo e quindi questo aspetto umano è molto molto importante perché se togliamo l'umanità delle persone diventano semplicemente delle statistiche ti ringrazio veramente per questo aspetto umano che siete cercando di tirare fuori dentro l'immigrazione perché è quello che infatti dovremmo cercare di fare tutte le volte e non lo so se vuoi aggiungere qualcosa in questo aspetto grazie vedere veramente questo fenomeno in modo estremamente umano e soprattutto l'aspetto intimo della questione mi interessava anche approfondire soprattutto in Togo quindi nella seconda parte di questo progetto di ricerca diciamo approfondire quali 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 agenzie di socializzazione all'immigrazione erano coinvolte quali aspetti in qualche modo sorreggevano nutrivano la nascita della voglia di emigrare e poi la strutturazione del progetto allora i mass media internet i racconti degli immigranti di ritorno i libri che si studiano e tutte tutte quelle tematiche in qualche modo ancora forse di natura coloniale ok che influenzano l'idea di partire dico questo perché riporto questo esempio di questa persona grande una una persona veramente in gamba che ricordo con grandissimo piacere che era riuscito a creare un'impresa in togo si occupava di produrre creme e prodotti cosmetici a partire dalla bava di lumaca aveva fondato anche una radio comunque una persona estremamente realizzata e lui aveva studiato aveva conseguito il bac e poi la laurea in Francia aveva vissuto in diverse città e lui mi disse sai Alberto noi spesso abbiamo il complesso del villaggio il complesso del villaggio è di quella persona che vive nel villaggio e vorrebbe andare vivere in città per emanciparsi per iniziare una sorta di scalata sociale per come dire sentirsi a qualche livello migliore e io ho fatto questo per me andare in Francia era un modo per abbracciare un sistema valoriale connotato positivamente sicuramente che io sentivo superiore a quello che mi poteva dare il togo però poi mi sono reso conto che questa non era una cosa vera e me ne sono reso conto quando sia alle superiori che all'università io ero tra i migliori studenti addirittura mi raccontava che in qualche concorso di matematica arrivò primo e lì aggiunse che lui aveva decomplessizzato mi ricordo che proprio so questo questo termine si era decomplessizzato aveva veramente asciugato quasi veramente annientato quel complesso quel senso veramente di inferiorità interiorizzate qui sappiamo quanti studiosi hanno affrontato questo tema della fragilità in qualche modo di alcune persone che abitano che provengono da alcuni paesi africani rispetto al rapporto con l'Europa con la storia coloniale e con la bianchezza no? col bianco lì però apriremo veramente tutta una serie di temi che ho studiato ma che lascerei volentieri invece ad altri studiosi che che sicuramente hanno approfondito il tema molto meglio di me però quello che io notavo è che c'era questa forma di subordinazione e l'ho vista anche degli studenti togolesi che ho intervistato che ho incontrato durante la ricerca etnografica in questi cinque mesi quindi mi interessavano anche questi aspetti di colonizzazione interna mentale per citare sempre la famosissima frase di Thomas Sankara quello di il nostro obiettivo è decolonizzare le nostre mentalità ecco io ho visto ho incontrato diversi studenti che erano ancora dominati da istanze coloniali che li portavano a percepirsi veramente in modo estremamente subordinato anche nei miei confronti a volte ecco anche nei miei confronti quindi mi interessava anche questo ma ritornando all'esempio di questa persona che incontrai in Togo poi lui mi disse io mi ero decompressizzato non c'era alcuna differenza tra me e loro e allora preso da questa grandissima fiducia sono tornato in Togo ho fondato la mia azienda e adesso ho una diversa consapevolezza di ciò che io posso fare di ciò che i miei figli possono fare di ciò che il mio paese può fare qua non si vuole negare la difficoltà strutturale economica le problematiche politiche che ci sono in Togo come ci sono in altri paesi però è interessante anche per me vedere questi aspetti che in modo trasversale abitano le mentalità e che si possono incontrare e che ho incontrato più in atto in queste ricerche bene allora parliamo un po' del lavoro che siete facendo secondo la attuale la vostra esperienza qual è la difficoltà maggiore che le persone soprattutto gli immigrati trovano per poter essere integrarsi nella società italiana ok allora io generalmente nella mia ricerca tendo ad utilizzare infatti qui il termine inclusione perché perché l'integrazione secondo me rimane sempre da un'idea di mancanza l'immigrante manca di qualcosa e deve integrarsi integrare quelle parti di sé che non corrispondono a un certo humus culturale a una certa norma sociale a un certo modo di vivere il che in parte può anche essere vero cioè se banalmente non ho una padronanza della lingua italiana di un certo tipo avrò difficoltà a farmi capire effettivamente lì lavorando anche nei centri di accoglienza ho notato quanto possa essere invalidante difficile non imparare bene la lingua italiana avere una resistenza impegnarsi a imparare la lingua italiana ad esempio quello è molto importante è vero anche però che l'inclusione sociale culturale politica è un movimento bidirezionale che coinvolge e dovrebbe coinvolgere i migranti che arrivano e che accoglie ma anche quell'accoglienza accolgo sempre questa forma di io sto fermo e apro le braccia di cristiana memoria sì quell'aspetto di empatia di di bontà e soprattutto in alcune persone che ho incontrato è anche estremamente interessante ma non basta ci vuole un movimento anche da parte di chi di chi di chi è già qui tra virgolette degli italiani poi appunto chi sono gli italiani ormai dire italiani non dice più nulla anche lì però quello poi è un discorso legato all'identità nazionale al concetto di stato nazione vabbè ci allargheremo troppo però io credo appunto che ci sia la difficoltà una delle difficoltà sta proprio nella nell'idea secondo me non dico errata ma poco utile che c'è un'entità un gruppo in questo caso gli italiani che sta fermo è il gruppo di immigrati che si deve assimilare in partita dell'assimilazione in realtà la cosa dovrebbe essere appunto di mutuo incontro è vero anche che a qualche italiano può dire ma a me non interessa aprirmi all'altro ci può stare cioè veramente non mi interessa aprirmi all'altro però è vero anche che se non ti interessa aprirmi all'altro sicuramente però ti interesserà rispettarlo ti interesserà non fargli del male ti interesserà sostenerlo e osservarlo vederlo come essere umano integro con pari dignità e per fare questo devi conoscerlo quindi ora non si tratta più ritorniamo al discorso di prima che c'è chi si occupa di interculture e chi non se ne occupa ma infatti anche chi dice non mi interessa approfondire la cultura l'etnomusicologia manding non mi interessa non mi interessa il modo di pensare dei palestinesi ok però se vuoi credo che debba essere il desiderio di qualsiasi essere umano rispettare e nutrire un sentimento di pari rispetto che tu hai verso te stessi e verso i tuoi figli anche verso il tuo vicino di casa del Bangladesh devi in qualche modo vederlo e per saperlo vedere devi saper interpretare il suo modo di vivere non dico neanche la sua cultura perché anche lì cultura cosa intendi per cultura però le sue pratiche la sua umanità devi saperlo riconoscere quindi in qualche modo anche qui io mi devo muovere e allora lì quello che io sento spesso è anche una mancanza di curiosità che alcuni possono spacciare come semplicemente voglia di esotico ma qua proprio si tratta della curiosità di capire di sentire di vedere e lì vediamo che c'è un altro problema che ancora l'Italia l'italiano magari con grande fatica ancora sviluppa questo senso di curiosità questo c'è sicuramente poi è ovvio che un'altra problematica deriva dal dal contesto politico e da come una certa classe politica narra il fenomeno migratorio e lo assimila spesso alla delinquenza al terrorismo e comunque alla pericolosità è vero anche che sarebbe inutile e sbagliato secondo me credere che in modo lineare seguendo una logica lineare di causa e effetto tutte queste difficoltà siano create dalla classe politica la classe politica gli amministratori sono lì come effetto anzi sono il frutto di una coscienza collettiva di una certa maturità del popolo che mette lì quei governanti che corrispondono già a delle esigenze insite nella popolazione io non condannerei i politici e assolverei la popolazione sarebbe veramente non vedere dal mio punto di vista la realtà delle cose qui io sono molto affezionato alla concezione di Willem Reich allievo di Freud che ha approfondito il fenomeno della psicologia di massa del fascismo e altre cose notava come i vari dittatori erano lì come rappresentazione ultima come concentrato di una coscienza specifica che caratterizzava i popoli di allora le masse di allora quindi anche oggi dobbiamo renderci conto che spesso non è il politico di turno da solo che crea un clima che ostacola l'inclusione sociale tra migranti italiani c'è proprio un lavoro da fare innanzitutto con le persone allora voglio chiedere un parere tuo su questo pensiero mio e soprattutto una riflessione che ho avuto dopo un libro che l'ho letto all'inizio di quest'anno si chiama The Strange Death of Europe scritto da un inglese Douglas Moura e a un certo punto nella sua riflessione lui diceva ovviamente parlando dell'immigrazione in Europa che i politici europei avrebbero dovuto chiedere ai cittadini europei se loro interessavano o se loro vogliono l'immigrazione il tipo di immigrazione che l'Europa ha in questo momento e sì a un certo punto ha un senso quello che dice Douglas però il punto è che nessuno ha mai chiesto a queste persone che arrivano in Europa se volevano essere colonizzati se volevano cambiare la loro lingua se volevano imparare inglesi francesi volevano imparare italiano sono stati costretti a farlo quindi e quando adesso i loro paesi sono stati distrutti e loro cercano di sopravvivere solo di sopravvivere non vengono qui con gli ammi non vengono qui per distruggere l'Europa non vengono qui per conquistare vogliono solo sopravvivere quindi tocca la domanda bisogna prima chiedere se vogliono essere accettati non lo so quanto è ragionevole lo so per certe persone quando si parla della giustizia è la giustizia quando ha il loro favore però quando è a favore degli altri non è la giustizia faccio una parentesi quando gli europei vanno a distruggere non lo so la popolazione aborigine dell'Australia è giustizia quando si dice andiamo a scoprire l'America anche se staminiamo la popolazione che erano lì è giustizia quando si parla di andare a dirubare a distruggere la terra delle altre persone è giustizia quando poi quelle altre persone vengono qui in Europa non per distruggere ma per sopravvivere per rimanere in vita abbiamo tutti questi studiosi europei anche le persone comuni che vanno a fare una confusione che vanno a fare un ragionamento veramente astrani per dire che questi qui non devono essere accettati bisogna prima chiedere e questa è la cosa che non capisco questo è estremamente interessante nel senso che se noi vogliamo capire il fenomeno migratore attuale dobbiamo necessariamente comprendere la storia e i rapporti coloniali tra Europa e Africa in dubbio se vogliamo parlare del fenomeno migratore africano ovviamente in dubbio in dubbio perché oggi quando parliamo ad esempio quando Foucault questo studioso parla di cultura della migrazione di cultura della migrazione in Africa dell'Ovest parla espressamente di un modo di intendere la vita e in questo caso la migrazione come l'ultimo step evolutivo di realizzazione totale del giovane africano che quindi consiste nell'arriva ad andare in Francia andare negli Stati Uniti andare lì questa cosa è ovvio che questa cultura della migrazione si radica nei rapporti tra Europa e Africa in merito alla storia coloniale quindi questo per il discorso appunto del giovane africano però è ovvio che sarebbe non so penso che si spieghi da sé come come si può ritenere giusto giusto e utile pensare che l'Europa e gli europei per secoli e tuttora possano andare ovunque ma non possano accogliere possano creare aziende multinazionali ovunque ma non possano appunto ospitare vivere convivere con altre persone non europee mi sembra un'assurdità non soltanto dal punto di vista etico ma anche rispetto alla natura umana ci muoviamo ci spostiamo quindi c'è sì un discorso proprio di di storia l'Europa è andata lì e quindi in qualche modo è a come dicevi tu è entrata in modo molto violento e come si fa a pensare che dopo che hai aperto una strada che questa strada non possa essere percorsa anche in direzione opposta pensi che ci sia solamente un canale Europa-Africa e non Africa-Europa è assurdo è assurdo poi capire come le dinamiche che caratterizzano questi canali comunicativi sicuramente è importante cercare di capire come funziona però trovo veramente assurdo abberrante esatto chiedere ai cittadini europei posso per me non dovrebbe esserci neanche la domanda ecco e ritorniamoli poi al diritto di qualsiasi essere umano di muoversi e di spostarsi certo è dobbiamo capire la natura e là ritorno agli aspetti psicosociali la natura di questo spostamento perché se la natura di questo spostamento è una forma di colonizzazione interna mentale per cui io mi realizzo io senegalese solamente se sono in Francia con i francesi se in Togo e l'ho sperimentato mi sento più figo se parlo un francese simile alla madre padre qua fior fior di studi c'è un problema c'è un problema quindi da questo lato dal lato Africa c'è un problema poi in Europa che non riconosce non riconosce non vuole vedere gli effetti della sua politica coloniale nefasti e le azioni estremamente come dire distruttive e spesso malvagie che ha perpetrato in secoli di storia ora qui senza cadere nella retorica Europa cattiva poveri africani assolutamente però bisogna vedere in entrambe le sponde che cosa non è andato e che cosa continua a non andare in modo tale che la migrazione diventi veramente una strategia del vivere non soltanto del sopravvivere che delle persone immigrino spinte dalla curiosità spinte dalla voglia di conoscere il mondo spinte dal fatto di trovare un lavoro che corrisponda e risponda alle proprie esigenze ma non perché c'è una forma quasi di dipendenza una forma di subordinazione una qualche forma di gerarchia e non perché l'Europa ha bisogno di manovalanza a basso costo come la chiamava Sayad riferendosi agli ouvriers specialisés agli operai algerini che in massa in massa sono stati reclutati nelle aziende che si andavano creando nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale quindi durante il boom quindi sembra una riflessione bidirezionale per cui ritorno non chiederei neanche ai cittadini europei se possono se sono o non sono d'accordo secondo me non c'è neanche il diritto di porre una domanda del genere bene torniamo nel vostro progetto quindi le coppie miste ora facciamo un paragone un piccolo paragone per quanto riguarda le coppie miste e le coppie diciamo italiane quale differenza ci sono veramente le differenze non sono tanto sul piano contenutistico ma si collocano a un livello processuale che cosa significa molti dicono sono miste perché ci sono differenze in merito alla cultura in merito alla religione in merito al fatto di provenire da due contesti nazionali differenti è vero anche però che ormai il concetto di cultura come un concetto granitico circoscritto separato cioè c'è la cultura wall off separata dalla cultura poteva andare bene anni fa oppure può andare bene in qualche contesto ancora ma non c'è utile in antropologia si sente spesso parlare di crossing boarding cultures per cui culture che attraversano che spezzano i confini ormai è più un incontro tra aspetti più tra correnti ecco che si toccano e si incontrano per cui dire coppia mista perché lui è senegalese non ci dice nulla non ci dice nulla quello che a noi ci interessa è capire come queste differenze vengono gestite dalle coppie e qual è l'effetto che queste differenze hanno all'interno del contesto sociale entro cui abitano queste coppie la risonanza sociale e lì ci sono delle differenze faccio un esempio ancora oggi quando c'è una coppia mista formata da lei italiana e lui senegalese il problema è ancora quello legato alla razza ovviamente non in senso biologico ma in senso di rappresentazione sociale e di differenze epidermiche cioè quello che scatena l'idea di differenza di rottura di qualche regola cognitiva attraverso cui organizzo la realtà è vedere bianco nero semplificando e allora lì lì può partire il pregiudizio da parte delle famiglie d'origine che non accettano ad esempio la famiglia di lei o la famiglia di lui di avere che la figlia o il figlio abbia un partner nero o che non accettano che il proprio che il partner sia musulmano e allora lì scatta l'idea di misto qua c'è un problema perché il contesto sociale non è pronto ad accogliere queste nuove configurazioni relazionali e familiari un'altra idea di misto che differenzia queste coppie dalle coppie tradizionali è poi ripeto come mettere insieme due mondi culturali ma in realtà quello di mettere insieme due mondi è la sfida di qualsiasi coppia di qualsiasi coppia tradizionale di qualsiasi coppia nel mondo però come dire nelle coppie miste la specificità è che i due mondi da mettere insieme spesso riguardano i mondi religiosi quindi gli aspetti religiosi gli aspetti chiamiamoli a qualche livello culturali ok quindi quello è il loro ambito quelle sono le sfide specifiche ma in termini generali sono impegnati a creare un arrangiamento di coppie che funzioni come in qualsiasi altra coppia però ovviamente hanno ok delle domande delle questioni più caratteristiche una coppia tradizionale non dirà mai aspetto come facciamo a livello interconfessionale a mettere insieme islam e cristianesimo banalmente ok quindi lì anche nella pratica di intervento di sostegno psicosociale dei professionisti psicologi psicoterapeuti antropologi vi dicendo è utile ad esempio avere una buona conoscenza della storia delle religioni ovviamente quindi in quel senso poi può essere importante dire misto perché anche in chi vorrebbe vuole lavorare con con queste coppie ci deve essere una consapevolezza di quali strumenti teorico pratici servono per lavorare al meglio quindi questa è estrema sintesi bene allora per quanto riguarda loro cioè le coppie amministra con la quale lavorate cosa è che li spingono a venire da voi e poi dopo la seduta dopo l'incontro con voi poi se non lo so un giorno due non lo so quanti giorni di solito li incontrate cosa aspettano come il finale come il risultato allora li spingono innanzitutto delle difficoltà legate alla coppia legate all'educazione dei figli legate alla famiglia d'origine legate a episodi di razzismo e pregiudizio esperiti dal partner emigrante e quindi quello che poi la spinta quindi è sempre un disagio una difficoltà quello che poi si aspetta no è che alla fine di un percorso psicologico psicoterapeutico di recuperare ripristinare un'armonia un'armonia che significa riuscire poi a fare qualcosa con le differenze cioè poi fondamentalmente con questo materiale umano che magari a inizio percorso è disorganizzato sparso incoerente riuscire poi a costruire qualcosa di 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 funzionale di di coerente di nutriente ecco per la coppia in cui le differenze da vincolo possono trasformarsi in risorse quindi questo è poi quello che loro si aspettano di arrivare poi ad avere degli strumenti dei modi attraverso cui organizzare la propria esperienza di coppia e come affrontare poi le sfide che ricordiamoci che sono dei pionieri le sfide che queste coppie incontrano le difficoltà che incontrano sono difficoltà nuove perché nessuno ha mai affrontato il tema appunto della interreligiosità prima di queste coppie a livello di relazione oppure l'identità dei figli di coppimiste sono italiano non sono italiano mi sento più eritreo mi sento meno eritreo sono sia eritreo sia italiano quindi anche i conflitti di lealtà che spesso il figlio vive e sperisce rispetto a come posizionarsi tra l'uno e l'altro genitore quindi sono veramente problematiche nuove che meritano come dicevamo poc'anzi una riflessione e uno studio particolari attenti sul vostro sito ho letto che uno degli strumenti che usate una delle tecnica che usate è mindfulness mi puoi spiegare un pochettino come viene usato il mindfulness come strumento o come tecnica per questo lavoro certamente la mindfulness essendo fondamentalmente una pratica di consapevolezza che si basa sul respiro quindi ancorarsi consapevolmente alla sensazione del respiro poi tradotta letteralmente significherebbe pienezza mentale è un lavoro un percorso che permette fondamentalmente di rafforzare la consapevolezza dei propri vissuti delle proprie esperienze intime e di ciò che in qualche modo l'essere umano in queste cose i partner attuano automaticamente senza rendersene conto i cosiddetti automatismi mentali la mindfulness permette veramente se praticata se rafforzata non soltanto di essere consapevoli di questi automatismi mentali ma anche evitare di identificarsi con questi meccanismi mentali ciò significa che non soltanto si è consapevoli di ciò che siamo pensiamo sentiamo viviamo ma anche come queste rappresentazioni interne non sono la verità sono un punto di vista che deve essere sempre in contatto sempre coordinato col punto di vista dell'altro quindi è sempre un percorso appunto di mindfulness di coppia non soltanto del singolo e soprattutto essere consapevoli delle proprie griglie interpretative e dei propri riferimenti culturali perché quando parliamo poi di intercultura di etnocentrismo la tendenza a valutare rappresentare il mondo a partire dai propri riferimenti culturali e quali sono questi riferimenti culturali Ralph Linton il celebre antropologo diceva la cultura è come l'acqua per i pesci ci nuotano dentro ma non se ne rendono conto la mindfulness ci permette di renderci conto dell'acqua entro cui stiamo nuotando che ciascun parte si renda conto che ciò che lui pensa non è l'unica realtà ma è semplicemente il punto di partenza più comodo il proprio modo più o meno legittimo più o meno funzionale di intendere il mondo di rappresentarsi ecco di rappresentarsi il mondo il mondo non è come lui vede il mondo è come lui se lo rappresenta e quali sono queste rappresentazioni queste idee spesso implicite la mindfulness ci permette di chiarire questo orizzonte e quindi poi di far emergere attraverso la consapevolezza queste idee che spesso lavorano in un sottobosco oserei dire non di tipo inconscio ma sicuramente inconsapevole che agisce quindi porta spesso le persone ad avere dei problemi non sapere perché quindi in sintesi si è sviluppare sicuramente maggiore chiarezza dei propri processi mentali grazie mille a Betto e allora parlami un po' della relazione cioè voglio chiedere se le persone che arrivano un gran percentuale di loro tornano a casa con il problema risolto quindi le coppie tornano a casa felice e tutto il resto ma guarda una percentuale possiamo farla sicuramente in cui vediamo che le coppie quello che vede poi dalla dal momento il momento in cui loro arrivano perché aiutare una coppia a ricucire il rapporto a inizio conflitto non è la stessa cosa di aiutare una coppia quando il rapporto è veramente logorato da problematiche che si portano avanti da anni detto ciò sono sicuramente in termini percentuali specifici precisi non ti saprei dire non ce li abbiamo ma nella maggioranza dei casi riusciamo sicuramente a fare qualcosa come dicevi tu a ricucire i rapporti però è vero anche che in diversi casi l'obiettivo non diventa più tanto ricucire il rapporto ma accompagnare la coppia in un percorso in un percorso di separazione armonico e funzionale evitando danni collaterali soprattutto rispetto ai figli spesso il lavoro è anche quello non tanto tenerli per forza insieme ma a volte quando il ciclo esperienziale di coppia sembra essersi esaurito lasciarli andare permettere loro di lasciarsi andare senza troppi danni collaterali ecco quindi questo avviene anche spesso te personalmente perché tu hai investito il tuo tempo e tutto il resto per poter seguire questo progetto cioè partendo dall'idea hai viaggiato in Africa hai lavorato con tante persone che potrebbero essere diverse adatte a livello culturale e tutto il resto e questo la fai perché è una cosa che ti piace personalmente qual è la tua soddisfazione in questo lavoro? guarda la mia soddisfazione è quella che è legata molto a diciamo a a un sentimento che mi accompagna da quando sono piccolo cioè capire innanzitutto perché le persone in che senso le persone sono differenti le une dalle altre e poi capire in che modo tutelando e proteggendo queste differenze gli esseri umani si possono incontrare sembra sembra veramente pura retorica ma è davvero un sentimento che mi accompagna da tempo quindi quando riesco a organizzare un seminario a dire qualcosa di interessante a vedere una coppia che riesce a fare qualcosa con le differenze a ritrovarsi a far capire a uno studente quanto è importante il dialogo interreligioso e quando in qualche modo sento di aver restituito un minimo di armonia all'interno di una famiglia questo mi rende veramente molto 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 contento perché è quello che senza troppi giri di parole è una cosa che mi abita direi anche che mi proprio che che mi guida da quando sono veramente piccolo quindi la soddisfazione più grande è questa vedere che quando si incontrano gli esseri umani è possibile veramente far nascere qualcosa di estremamente bello ecco estremamente felice e che è soprattutto vedere come questo incontro non è un'occasione particolare ma è la condizione essenziale dell'essere umano quella di sapersi ritrovare al di là di qualsiasi differenza culturale religiosa etnica proprio come come pura presenza che al contrario la condizione innaturale è non trovarsi o almeno questa è la mia la mia idea è quella la condizione innaturale che abbiamo messo tanti ostacoli che non ci permettono veramente di vederci in profondità poi quando questo accade e se questo accade anche grazie al mio lavoro io mi sento totalmente pieno bene allora questo non è una domanda è solo una riflessione finale una conclusione tua può essere anche per le persone che ci hanno seguito fino a questo punto nel video sì sì volendo concludere diciamo che di non avere paura per chi è appena arrivato in Italia per le coppie le famiglie miste per chi lavora in tale ambito di non avere paura anche quando si sperimentano delle difficoltà enormi per il motivo che ho ho espresso poc'anzi perché questo è un movimento naturale questo di incontrarsi scontrarsi è veramente un movimento naturale ed essendo naturale non può essere arrestato fine l'unica cosa che possiamo fare è capire come rimuovere gli ostacoli e come agevolare questo flusso di costante incontro paritario non gerarchico di pura presenza di pura consapevolezza tra gli esseri umani e quindi di non avere paura quando si incontrano queste difficoltà perché nei fatti la forza motrice di questa di tutta questa cosa è estremamente potente per cui abbandoniamoci a questa cosa qui bene con questo voglio ringraziare Arbetto Mascena per il suo tempo che ha dedicato per rispondere alle mie domande e la riflessione che sicuramente erano pieno della ricchezza dell'informazione e ringrazio anche a voi che ci avete seguito fino a questo punto del video sono veramente grato e sono sempre dell'Oberhe L14 e apportamento alla prossima intervista Arrivederci If you enjoyed this podcast make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes Rate and review Oberhe podcast and share with your friends who might need it Arimeh Oberhe L14 Thank you so much for listening and talk to you in the next episode I'll see you I'll see you Grazie a tutti.